In accordo con l'amministrazione comunale, in sinergia con la prima municipalità, si sono ripuliti alcuni torrenti cittadini, tra cui anche il nostro Santo Stefano. È stata tagliata l'erba e appena è stata tagliata l'erba sono venuti fuori una discarica abusiva dovuta a sacchetti di immondizia lanciata da gente incivile. È stato bonificato l'alveo raccogliendo manualmente tutta l'immondizia che c'era, è stata messa in dei sacchi e messina a servizi puntualmente li ha tolti. Ad oggi ci ritroviamo in un'altra situazione paradossale che nonostante il torrente è stato pulito, è decoroso, è bellissimo quando si sale a un biglietto da visita veramente di tutto rispetto, ci ritroviamo che qualche incivile, ancora ad oggi, ha iniziato a gettare spazzatura. E questo è vergognoso, perché questo è il segnale che la gente non vuole cambiare e quella borsa è come se fosse peggio di tutto quello che è stato raccolto in questi anni, perché vuol dire che non si è capito proprio niente. Un gruppo di cittadini ha accolto l'invito della Polizia Municipale per contrastare questo fenomeno e ha comprato proprio di tasca propria delle fototrappole e in questi giorni le donerà alla Polizia Municipale. Così aiuteremo la Polizia a contrastare questo fenomeno delle discariche abusive e finalmente restituiremo un po' di decoro al nostro territorio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!